Confermo, professore Nicciana, confermo perché è vero, sì, e io ero a Carmo Università, l'ho passata con Carmelo, io non ho passato Università ma sono stata, anche con Carmelo, quindi mi è pensata alla Università, quindi sì, confermo, ok, domani tornerò alla conferenza del 30, non so se c'è anche lei, sì, tutti i giorni, ok, questa calamaglia, l'indefine, dai voi giovani, voi giovani dovete, stiamo aspettando i giovani, qui siamo troppo giovani, non siete troppo giovani, nuove energie, Buongiorno, ciao, come stai? Benissimo, ecco perché è stato novembre, c'è Pimpi nella sua, sì, eccomi qui, Ah, stai prendendo il contatto, è perché tu te vengono, dovevi andare a Milano, a fine è un film, da Milano ti trovare, no, io mi è, non fuori, non c'è quica, se 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 c'è quica, rispetto ad altri studiore che a volte non lo faccio, se c'è quica, se c'è quica, no, grazie, veramente, perché a volte che ne fa intesa, Non ci si ferma l'altro video. Tu continua il film, poi ci vediamo. Ti vengo a saluto, ma stai scappando? Ah, io ho fatto un giro. Ti ho salutato. Dopo, dopo, sto con fuori. Ciao. Abbiamo salutato, salutiamo anche Tordini. Abbiamo salutato Tordini. Buongiorno. Buongiorno. Mi ha fatto vedere le braccia. Sì, vabbè, non si è sentita da sera, non so se devo dire la verità. Ma è brutto dirlo, però, insomma... Eh, lo so, lo so. E vabbè, se non è brutto... Eh sì, infatti. Ciao. 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 Ah, padre. Ciao. Ciao. Questa studentessa che segue tutte le cose di Carmelo dalla Sicilia, dalla Sicilia. Ieri ne abbiamo parlato. Lei viene, è venuta ad Otranto, lei segue tutto. Ci sei il treno di prezziato, non è la liberatora assolutamente così. È un grosso scambio culturale, voi due già. Certo. Cosa non capitano a caso, eh? Ci sono questi cosi che sono, sai, circolati da dei fusti particolari. Quindi, se non lo sento che... c'è questo... Vai, dai, andiamo avanti. Eh? Professore, 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 professore... No, vabbè, eh... Sì. 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 Mi sono incisi da me. E forse volevamo giocare alle feature met... Non c'era... 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 Ma c'era... Ma c'era... Ma c'era... Ci chiamiamo, è l'università delle computer... Grazie. Ci chiamano dentro... L'università... E io ritorno... Ma borsa... Dai, ci vediamo più tardi, ragazzi. No. Grazie, scusami. Ci vediamo domani. Riprendi fuori campo, proprio. Stai riprendendo? Ma già... Ma Michele sta con la Fidelità almeno bene. Ma visti... Che camminavano... Cioè... Di cosa me? Che... Che scemo! Insomma... Ghezzi De Peccato ti ha distrutto? No, però... Un vero dispiacere, peccato, perché... Sarebbe stato prezioso. Era un controsenso... Un incontro di questo tipo sul cinema... Beh, non so... Sbagliato a prescindere.